Ah, io mi sento veramente onorata, qui no music, la coscienza dice magari, no, non ci sono. Si debba poter vivere a pieno il tempo che abbiamo a disposizione. Non capisco perché certi sì ed altri no. Però sono convinta che le cose cambieranno, sono convinta perché è troppo l'amore. Stefania D'Alessandro, che diceva che parlava a proposito del Pride di Roma, e diceva una cosa bellissima, che il concetto dell'esistere, che non riguarda l'orientamento sessuale, non riguarda, diciamo, qualsiasi peculiarità dell'essere umano, riguarda io sono qui, esisto e voglio vivere la mia vita come mi va. E questa è una cosa bellissima. Ognuno è, ognuna di noi, ognuna di noi, parlando insensurato, è la regina di se stessa. Grazie, grazie. Grazie.